Se un aereo dal balcone è un'esperienza direi diversa che stare su un palco. È possibile riuscire a coinvolgere le persone anche da un balcone. La via che diventa una dance hall. Questa cosa ci dà appunto tanta energia e tanta voglia di farlo. Stare in strada, vivere la strada e fare un grande party. Questo è il messaggio del vertical stand.